Sorpresso dai carabinieri, mentre nascondeva la droga dietro a delle lastre di marmo, droga che aveva anche in tasca. Alla fine i militari della stazione di San Pancrazio Salentino hanno sequestrato complessivamente 45 grammi di cocaina e 300 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio del 44enne Vito Piccione, finito in carcere anche con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale. Nel dettaglio i militari, in uno specifico controllo, hanno notato Piccione mentre occultava tra involucri di plastica dietro a delle lastre, da qui la scoperta della prima parte della droga e poi, dopo perquisizione personale, di altre 26 dosi in tasca insieme al denaro. In casa dell'uomo i carabinieri hanno trovato anche materiale per il confezionamento della sostanza. Tutto finito sotto sequestro, mentre il presunto pusher, con accuse come sempre tutte da dimostrare, è stato condotto nel carcere di Via Appia a Brindisi. Grazie a tutti.